Salve a tutti ragazzi, ecco qua in questo nuovo video per mostrarvi il mio plugin ctrpf per Tomodachi Life. Iniziamo subito ad aprire la schermata qui. Ecco come si presenta il plugin in sé. Qua davanti ci troveremo le varie sezioni dei codici, quindi i vari sblocchi, lo sblocco di tutti gli edifici, lo sblocco delle statistiche, poi abbiamo lo sblocco di tutti gli oggetti. Ho messo warning perché su alcuni salvataggi, dipende che progressi uno ha fatto, potrebbe corrompere il salvataggio. Quasi tutti gli oggetti quindi non sono inclusi gli oggetti speciali presentati da un'iconcina di un tesoro, quindi questo qui non ha creato problemi. Qua abbiamo i vari codici dei soldi, quindi uno può mettere soldi infiniti, soldi negativi, vabbè questo qui era un codice così per sfizio. E qui uno può impostarsi quanti soldi uno voglia avere, quindi uno può avere, ne so, 60.000 euro. Vanno inclusi anche i centesimi, quindi se uno scrive così 60.000 e basta, viene 600 euro, quindi uno mette 60.000 così e avrà i suoi soldi, quindi io vado nel negozio di alimenti ed ecco qua, 60.000 euro. Poi abbiamo i vari oggetti infiniti, quindi metterà gli oggetti a 99. Qui abbiamo le varie impostazioni, quindi per avere questa roba qui per eliminare tutto l'inventario, se uno proprio volesse. ora vi faccio vedere poi. Poi eventi, questo qui è per avere sempre l'evento della donazione, cioè quindi le donazioni sempre attive, quindi ora vi faccio vedere. E qua abbiamo, vabbè, le impostazioni delle statistiche. Poi abbiamo i vari upgrade del condominio, degli appartamenti, insomma lì, dell'edificio. Questo è per esettare le flash news, quindi se uno dovesse premere questo, ecco come ho fatto ora, succederà che ripeterà tutte le notizie, infatti se io la vado qua, metto questo, con la famosa mod toscana della mia, come mostrato, come negli short. Va bene questo. E ora continuerà così all'infinito, cioè all'infinito no, però e qui continuerà a fare... e poi basta. Poi saltiamo tutto il discorso qui perché continuerà così all'infinito. Ok, abbiamo finito qua le notizie flash. Vi faccio vedere appunto questa coi della donazione, quindi uno qua raccoglie le donazioni. Qui i soldi aumentano perché non è un valore fisso. E quindi uno può avere le donazioni se proprio uno volesse, anziché impostarsi i soldi che uno desidera. E quindi appunto uno potrà fare qui all'infinito. E si può attivare, se mi ricordo bene, anche quando uno cambia la data e l'ora. Dice alcuni eventi potrebbero non essere disponibili. Insomma, con questo è possibile comunque attivarlo. Poi esiste anche appunto il codice per attivare l'evento del Luna Park, però quello funziona comunque in base all'orario che... all'orario e da come è stato impostato nel gioco il discorso degli eventi. Quindi se quel giorno si trova l'evento dei sacchetti lì, dei mystery bag lì, uno avviandolo, attivandolo Luna Park si può fare. E questo qui è per attivare una volta sola, quindi senza terreno fisso attivo. MISC è quello che ho fatto vedere prima. Vi faccio vedere ora questa parte qui dei codici. Quindi andiamo all'appartamento. andiamo qui ad esempio. Poi, apriamo i regali qua. Ora qui saremo... cioè siamo a... niente, cioè siamo a gli oggetti normali. Appunto oggetti speciali intendevo questi articoli speciali qua. Se uno mette appunto questo qui, tutti i cibarie, ecco qua a 99 tutte le opzioni. ecco qua, gli oggetti 99. E questo sarebbe per sbloccarli singolarmente. Poi appunto c'è quell'altro, questo qui unlock, questo qui dice appunto usando questo codice potrebbe corrompere il sabotaggio che l'ho detto prima. E appunto, così uno ha tutti gli oggetti sbloccati in un colpo solo. Ecco qua. E se uno volesse fare l'inverso può fare in items e mettere a zero qui. Cancella tutto. E adesso uno non si ritroverà niente dentro l'inventario. Poi uno va a comprare e può comprare gli articoli qui. E appunto, qui si ritroverà un oggetto solo, senza quelli lì di prima. O appunto, questi qui servono per avere gli oggetti mostrati prima, in modo che non vengano scalati dal contatore. E niente. Del plugin vi ho mostrato praticamente tutto. Ah, giusto questo qui dei appartamenti. Però questo qui è così. Per estetica, diciamo. Perché se uno appunto mettesse questo qui... Dov'è? Mettersi questo qui per... Prima. Questo. E vado qua nell'appartamenti. Poi esco. Ecco qua. Che apparirà questo discorso qua. Poi notizie flash. Perché dice, eh, è stato fatto l'appartamento qui. Le notizie dell'ultima ora. L'edificio che ospita gli appartamenti è stato rinnovato in un bar. Con l'arrivo di così tanti nuovi, ora può contenerne... Ring, un inquinina, adito. Grazie per la cortese e attenzione. E mi raccomando, restate sani. Restate sani, mi raccomando. Ovviamente è preso da MWblog. Come mostrato in uno short. E niente. Quindi succederà questa qui. Questo qui quindi è più per estetica. Cioè uno può impostarsi l'edificio al massimo. Ma poi tanto quando uno si invita altri mi succede che venga resettato. Nelle statistiche appunto, qui, uno può. Costa tutto a 99. No, al massimo. 9.999. Quindi E ti pareva ora. Ok, sono terminate le nostre sfleshi. Andiamo a vedere le statistiche di prima. E appunto qua abbiamo qui al massimo le statistiche. Vabbè, il senso non ce n'è tanto. Comunque appunto uno può avere le statistiche a 9.999. Probabilmente uno le può vedere tramite StreetPass. Però non ho avuto occasione effettiva di vedere con lo StreetPass. Ne ho avuto giusto uno, però ho visto semplicemente che vengono consegnati pacchi con gli oggetti speciali, insomma. Quelli lì al porto. Ok. Tutto ciò che c'era da mostrare del mio plugin è stato mostrato. La maggior parte dei codici sono stati mostrati in questo video. Troverete in descrizione il link del download del plugin. funzionerà su qualsiasi versione di Luma anche se comunque la versione ufficiale quella lì appunto senza forche e cose varie che supporta questi tipi di plugin è la 13.0.2 quindi dovrete per forza scaricare l'ultima versione effettiva a novembre 22 2023 quindi Luma 13.0.2 Anche vabbè c'è scritto comunque tutto lì nella pagina comunque diciamo che non è difficile metterlo perché è semplicemente da scaricare questo pacchetto che troverete in quella pagina e da estrarre sulla micro sd e via e nulla qui è tutto ci si vede alla prossima se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace iscrivetevi per restare aggiornati e nulla qui è tutto ci si vede alla prossima bye bye